Amici del secondo canale, Gianborno, allora, stavo mangiando, il Lecce ha arato nel modo più profondo possibile il Torino, distruggendolo sotto ogni punto di vista, e volevo parlarne in questo video. Tra l'altro vi ricordo che domani su questo secondo canale usciranno due video. Il primo, in cui andremo a fare domani alle ore 7 di mattina, 7, quindi mettete alla sveglia, un riassunto della giornata europea del calcio, di cui non abbiamo parlato nel video di ieri. Poi uscirà un altro video nel quale andremo ad analizzare il calcio mercato dell'Inter, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati. Detto questo, oggi parliamo del Lecce, che, ecco, questo è fare un mercato buono, questo è fare un mercato buono. Due Napresi, cioè Napresi un po' di più, però due Napresi, Barak e De Iola, Bumba, La Bam, Dugou, 1 e 2, pratica chiusa. Poi il Torino ha staccato la spina, il Lecce ha distrutto in tutto e per tutto il Torino, e io, ragazzi, vi dico la verità, il Lecce la reputo la squadra più imprevedibile, più uno X2 del campionato nostrano. Il Lecce può fare qualunque cosa, il Lecce può vincere con la Juventus a Torino e perdere in casa contro la spalla, il Lecce può fare tutto. Il Lecce è la squadra più imprevedibile del campionato, oggi ha messo a ferro e fuoco il Torino. Il 4-0 non è un risultato casuale, è un risultato che viene sì dal fatto che a molti tifosi torinisti non è piaciuto il mercato del Torino, mi è sembrato abbastanza inesistente, più che non è piaciuto. Però poi con i ragazzi da un punto di vista, tipo Iago Falke secondo me in questo Torino ce la seccava poco sotto la guida di Mazzari, abbiamo perso Iago Falke. Sì ma il problema non è che avete perso Iago Falke, il problema è che non avete acquistato, il problema è che serve un centrocampista, il problema è che serve qualcuno che guidi. Ci sono tanti problemi, ok? Il problema non è stata magari la cessione di Iago Falke, per dire, ma questo è un discorso a parte. Al di là di questo, che vi stavo dicendo, il Torino scende in campo, forse con poca voglia, forse con troppa credibilità nei propri mezzi, perché poi è sceso in campo un po' stupidamente, nel senso che Lecce ha cominciato ad attaccare il Torino e non ci ha capito più un cazzo, e vuoi dei Iola, e vuoi Barak, e vuoi chi ti pare a te? Falco, il Pipipo Falco, il Messi del Salento, ma ancora tipo il 4-0 da calcio di rigore. Il Lecce ha distrutto in tutto e per tutto il Torino, e vi dico, regà, che questo era un risultato che non mi sarei mai aspettato, un risultato supermeritato da parte dei Salentini, che così procedono enormemente nella corsa verso la salvezza, perché poi la Falke perde 5-1 a Roma contro la Lazio, fa un risultato pesantemente negativo. Il Genoa, che invece strappa un punto con l'Atalanta a Bergamo, fa un risultato enormemente positivo, però quello che fa un risultato più di tutti positivo, in questo momento quella è proprio la squadra di Lecce, la squadra del Salento, che poi vince 4-0 e che dimostra sul campo, sul campo, che ha un ventaglio variegato di possibilità da schierare in campo, e la salvezza secondo me non è poi così impossibile. Allora voglio sapere dai tifosi del Lecce cosa ne pensano di sto Lecce, che continua a correre e, insomma, ogni tanto se spegne, ogni tanto spegne il cervello, ogni tanto invece lo riaccende, però bene o male fa sempre piuttosto bene. E voglio sapere che cosa ne pensano invece ai tifosi del Torino di questa catastrofe gigantesca, perché, ragazzi, avete perso 4-0 al Via del Mare, cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Detto questo, fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, amici del secondo canale, iscrivetevi a questo secondo canale, perché mi seguite in tanti, ma dovete iscrivervi, vi ringrazio, ho visto questo video, mi piace, mi piace, mi piace, buon ciao a tutti come sempre, ci vediamo in un prossimo video.